Musica Sono Maria Grazia Muri, Vicepresidenza dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria. Siamo alla terza edizione del Festival del Servizio Sociale. Nelle scorse consigliature abbiamo affrontato delle tematiche diverse. Siamo partiti nel 2015 con la prima edizione dove abbiamo dato spazio alle buone prassi. Il Festival non è altro che una vetrina di buone prassi presentate dai colleghi assistenti sociali. Quindi mettere in rilievo la nostra professione e dimostrare che siamo in grado di fare cose importanti. Si è data importanza anche all'imprenditorialità dell'assistente sociale che ha creato dei servizi. Per cui nella prima edizione ci siamo occupati di varie tematiche. Successivamente, crescendo insieme sia come consiglio che come festival vero e proprio, abbiamo poi indirizzato su delle tematiche particolari. Nella scorsa edizione si è parlato di immigrazione e oggi siamo appunto alla tematica relativa all'omofobia. Una tematica molto scottante e a dir la verità è stato veramente difficoltoso portare avanti questo evento. Sia per quanto riguarda appunto la scelta dei relatori, ma anche come tematica da esporre proprio agli iscritti, ai professionisti che oggi non sono stati molto presenti a questa bellissima manifestazione. Sia per quanto riguarda appunto la scelta dei servizi.